E' una giornata intensa, l'ennesima, quella vissuta riguardo la tragedia delle due vittime del disperso nel fiume Natisone, anche se con il passare del tempo la situazione di Christian, Kasian, Molnar non lascia presagire nulla di positivo. E' umano che la speranza provi a restare sempre accesa, ma il realismo dice che la ricerca continua, che tutti stanno facendo sul fiume sia volta più a ritrovare il terzo corpo che altro. La macchina dei soccorsi non si ferma un minuto, nonostante un meteo in miglioramento, ma ancora non eccezionale a tal punto da far sgonfiare il fiume. Ed ecco che i vigili del fuoco continuano con immersioni, lavoro con i droni, anche sorvolando con l'elicottero a pochi metri dall'acqua e a pochi centimetri dalla vegetazione. Una giornata caratterizzata anche dal ritrovamento di una maglietta bianca, poi rivelatasi un brandello di maglietta che si sperava potesse rappresentare una svolta difficile stabilire se sia o meno di Christian nella piena del Natisone, ma se così fosse, quantomeno confermerebbe il fatto che si sia vicini e che la ricerca possa anche concludersi a breve, anche per mettere la parola fine all'agonia della famiglia Molnar, in particolare del fratello di Christian, sempre supportato dagli psicologi. È partito poco fa l'elicottero Drago che sta iniziando la sua opera di discesa lungo il Natisone, quello che ormai stiamo guardando e vedendo con voi in presa diretta e anche gli amici da casa, in lungo e in largo, nella speranza di riuscire a individuare nella giornata odierna il punto esatto in cui si trova il corpo di Christian e noi ci auguriamo ancora in vita. Parola fine che hanno messo invece le famiglie Cormos e Doros, anche se il dolore è enorme e non gestibile. È stata una giornata che si è dipanata su tre fronti, non solo quello sempre caldo di Premariacco, ma anche a Udine dove è stata aperta la camera ardente delle due ragazze. Siamo qui fuori, potete immaginare, ci sono ovviamente tante anche truppe televisive perché mediaticamente è qualcosa che non solo ha sconvolto i singoli cittadini nell'animo ma anche l'opinione pubblica. E dove si è svolta la conferenza stampa del procuratore di Udine, Massimo Lia, per capire cosa è successo nelle operazioni di soccorso dopo alcune sollecitazioni dei media e non solo su una situazione in cui pare si potesse fare qualcosa di più. Alle 11 si è tenuta nel comando di Udine dei Carabinieri la conferenza stampa del procuratore Massimo Lia che ha subito chiarito come sia stata aperta un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. Mentre il procuratore annunciava l'apertura spontanea di un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti con tante domande a cui ancora non si può rispondere perché non si può entrare nel merito, a pochi chilometri di distanza tante persone andavano a dare il loro ultimo saluto alle due ragazze. In bara con vestito da sposa come da tradizione ortodossa nella camera ardente della casa funeraria Mansutti. Un dolore profondo per una tragedia che ha intaccato pesantemente due famiglie che vogliono andare avanti per le sorelle piccole delle ragazze scomparse. Famiglie alle quali probabilmente interessa relativamente della tempestività dei soccorsi e alle quali forse fa più arrabbiare che nessuno sia intervenuto invece di fare video. Perché ogni cosa che verrà stabilita dall'indagine non potrà mai far tornare indietro le gioie della loro vita, le loro bambine, anche se non lo erano più Patrizia e Bianca.